Sicurezza nucleare e cooperazione nella gestione delle catastrofi sono i capisaldi del vertice trilaterale in corso a Tokyo fra Giappone, Cina e Corea del Sud. Un'occasione per il primo ministro nipponico Naoto Kan per riguadagnare il sostegno dei due paesi fortemente critici sulla gestione dell'emergenza nucleare a Fukushima. Prima di arrivare a Tokyo i tre leader hanno effettuato un sopralluogo alla centrale. Pechino aveva fortemente criticato la decisione di sversare acqua contaminata in mare e aveva bloccato l'importazione di prodotti agricoli da 12 aree giapponesi. Nel corso del summit il premier cinese Wen Jiabao si è detto disponibile ad alleggerire le misure restrittive togliendo il bando da almeno due zone. Ha poi assicurato aiuti per la ricostruzione nel dopo tsunami e fatto visita agli sfollati. Riguardo al programma di arricchimento dell'uranio della Corea del Nord il premier cinese ha poi auspicato la ripresa dei colloqui a sei fra le due Coree, Stati Uniti, Cina, Russia e Giappone in stallo dal 2008. E a Tokyo grande accoglienza per i primi turisti cinesi del dopo tsunami.